Siamo tutti quanti qui, gente da ogni nazionalità, di ogni religione, di ogni età, anche noi studenti che ieri abbiamo protestato per il nostro abirinto allo studio in una vera buona scuola. Oggi siamo di nuovo qua per ricordare che alla fine siamo tutti uguali, pelle bianca, pelle nera, musulmano, cristiano, buddista, gay, etero, siamo tutti quanti umani prima di tutto, prima delle etichette, siamo umani e ognuno di noi ha il diritto di scappare dal proprio paese qualora si trovasse in difficoltà, di viaggiare in sicurezza e di essere accolto come cittadino del mondo e le uniche ruspe che servono sono quelle per costruire nuove case per tutti.